Dal 4 luglio all'8 agosto potranno essere presentate le domande per partecipare al bando annunciato dall'assessore regionale all'agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea Tony Scilla. Sarà pubblicato oggi il bando del programma di sviluppo rurale PSR Sicilia 2014-2022, sottolinea, per sostenere la certificazione dei prodotti agroalimentari siciliani di qualità. Sono stati resi disponibili 400 mila euro a ferma per sostenere la partecipazione degli agricoltori e delle associazioni di agricoltori e sistemi di qualità. Il governo musumeci continua a sostenere così il settore economico più importante per la Sicilia. La partecipazione degli agricoltori e sistemi di qualità alimentare, aggiunge, consente di appropriarsi di un valido strumento per promuovere il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari e dei processi produttivi. Tutto ciò a garanzia dei consumatori e a supporto della competitività delle imprese agricole e agroalimentari, con positive ricadute di sviluppo sui territori. Si tratta di contributi in favore delle produzioni registrate in Unione Europea, riconosciute a livello nazionale, ottenute sul territorio della regione siciliana secondo i requisiti previsti dai regimi di qualità indicati, come ad esempio i prodotti ottenuti con metodo biologico, i prodotti DOP e GP e non solo. Tra gli obiettivi, il potenziamento e sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, migliorarne la competitività, ma anche pensare ai consumatori dando maggiore garanzia.